Che il Rigutino stia diventando un paese a tinti amarantoli si è capito da tempo, da quando la società lo ha scelto come quartier generale. Da allora sono stati fatti ulteriori passi in avanti. La ristrutturazione del campo sportivo Giuseppina Conti, che accoglie gli allenamenti della squadra, e l'hotel Gemma, che ospita i giocatori. Mancava un simbolo che potesse contraddistinguere ancora di più entrambe le strutture. Tutto fatto. Da oggi a di fuori dell'albergo campeggia questa insegna. Curiosità nel vedere il suo montaggio, ma anche soddisfazione. Non è solo un atto simbolico. Tutto richiama l'organizzazione che la società si sta dando in un cammino voluto dal presidente Manzo, supportato dal direttore generale Giovannini. Ogni cosa al suo posto, organizzazione per ottenere i risultati. Anche il campo Giuseppina Conti continua a essere oggetto di lavori, tali da legarlo ancora di più alla squadra. Insomma, Rigutino si sta colorando di amaranto, in un connubio che tutti sperano vincente.